Alla fine del Concilio Vaticano II Paolo VI chiese aiuto agli artisti. Possiamo dire che oggi la Chiesa chiede aiuto ai poeti per capire la cultura dei nostri tempi? Assolutamente sì. Papa Paolo VI in quel storico discorso in Cappella Sistina ha detto «La Chiesa ha bisogno di voi». E quello lo ribadisce oggi Papa Francesco. Noi abbiamo bisogno dei creativi, abbiamo bisogno dei scrittori, dei romanzieri, dei nuovi narratori e abbiamo bisogno di poeti che possano aiutarci a amare il mondo, a trovare un discorso di speranza, a aiutarci a riprendere un rapporto più sano, più equilibrato con la natura. Di questo intrescio di umanità i poeti sono custodi. Allora un poeta è una sorta di una riserva di umanità, perché nelle sue parole i poeti cercano sempre una umanizzazione in profondità di tutti i sentimenti, di tutte le esperienze. E di questo abbiamo bisogno, della riserva di umanità e di visione che i poeti rappresentano. Ecco, un'iniziativa che coincide appunto con gli 800 anni del Cantico delle Creature. Qual è l'attualità di questo componimento poetico? Un'attualità enorme e transversale, perché veramente pensare, e è uno dei obiettivi di questo incontro internazionale, pensare la posterità del Cantico delle Creature, il suo impatto non solo a livello della cultura e della lingua in Italia, in altre culture, ma anche l'impatto nella visione, nel modo di essere poeta, di essere artista. Pensare il suo impatto in generazioni di lettori che hanno imparato a costruire un rapporto più universale e fraterno con tutte le creature partendo di quello cantico. Pensiamo a quante poesie, ma quanti film, quanti romanzi, quante opere di cultura sono state fatte meditando proprio questa composizione che è come un seme nascosto nel cuore del tempo. Siamo in un momento storico in cui l'umanità si ritrova a fare i conti con le guerre. In questo senso, che contributo possono dare i poeti per promuovere la pace, la fraternità? È un contributo importante? Qualcuno potrebbe dire, ma sono solo parole quelle dei poeti. Mi ricordo di una storia invece, della storia di una poetessa, Anakmatova, che in un periodo di guerra e di deportazione lei cercava il suo figlio e un anonimo l'ha riconosciuta e stava anche accanto a lei cercando il suo figlio e guardando la poetessa Anakmatova gli ha domandato «Puoi raccontare questo?» I poeti sono quelli che possono raccontare, raccontare il dramma della guerra, pensare alla poesia di Primo Levi, «Sì, questo è un uomo». Possono fare le domande che aiutano gli uomini a cercare la pace e a capire che la pace è l'unica soluzione veramente umana, veramente auspicabile.